Concessioni demaniali all'asta per i balneatori italiani, questa la tanto temuta direttiva Bolkestein che ieri ha visto partire, alla volta di Carrara, associazioni di categorie in Regione Abruzzo. L'annuncio era stato quello del mancato rinvio al 2020 e dunque il rischio tangibile di perdere i propri stabilimenti in tempi brevissimi, forse anche prima dell'estate. Abbiamo voluto confrontarci con lui e con le altre regioni perché noi chiediamo l'applicazione o la disapplicazione in questo caso della direttiva Bolkestein perché nulla a che fare con gli stabilimenti balneari perché sono concessioni di beni e non di servizi e poi perché anche nella 123.2006 cosiddetta direttiva Bolkestein nell'articolo 12 si parla ampiamente di dove la risorsa non è limitata e non si applicano le aste. Abbiamo voluto ribadire, speriamo che questa volta sia la volta buona perché i tempi sono stringenti, al ministro di attivare quelle politiche soprattutto tra il governo e il Parlamento e la Commissione europea. L'incontro si è concluso con due richieste da parte della Regione per rimodulare una direttiva che proprio nel suo corpo fondante spiega l'impossibilità di essere applicata laddove esista la limitatezza del demanio per non parlare dell'impatto economico che creerebbe su tutte le famiglie che da generazioni hanno investito negli impianti che l'Europa vorrebbe mettere all'asta. Noi ribadiamo ancora una volta, fatto nella conferenza settimana scorsa, il doppio binario cioè l'applicazione della gara d'appalto sulle nuove concessioni e un periodo transitorio di circa 30 anni per far rientrare degli investimenti fatti dalle ditte stesse. Ci sarà una seconda fase dopo questo incontro? Ma urgentemente, proprio questa mattina ho riscritto di nuovo al ministro di cui convughi urgentemente la conferenza Stato-Regione e la conferenza delle Regioni e faccia un decreto legislativo, un progetto di legge affinché vada in Europa Grazie. Grazie.